Buon pomeriggio, benvenuti in conferenza stampa di presentazione del mister di Udinese Lazio, prima gara di campionato che giochiamo al Brunegger Stadium. Iniziamo subito con le vostre domande, partiamo proprio da te Alessandro, TV12. Buongiorno mister, parto da quella che è un po' la notizia della settimana, di fatto dell'infortuno di Alexis Sanchez. È chiaro che non ci aspettevamo di vederlo subito in campo dal primo minuto, però è stata una notizia che dispiace, perché c'era grande entusiasmo per questo suo ritorno. Volevo chiederle come ha vissuto lei la notizia e cosa cambia, se cambia qualcosa nella preparazione della gara contro la Lazio. Buongiorno a tutti. Sicuramente una notizia molto amara. Sicuramente non è bello iniziare con questa domanda. Io non vedo l'ora di giocare questa prima partita di fronte al nostro pubblico, ma sicuramente comprendo la sua domanda. Sicuramente noi tutti siamo molto contenti per il ritorno, il debutto di Alexis Sanchez, purtroppo però si è infortunato. Prima di tutto siamo contenti per come è arrivato carico qui da noi, è veramente entusiasta essere ritornato qui da noi e giocare qui di nuovo per l'Udinese. Purtroppo questa però è una notizia triste per la nostra squadra, noi dovremmo essere ancora più compatti, ma è nostro dovero. domani dovremmo giocare molto bene, dovremmo mostrare anche ad Alexis che siamo una squadra forte da affrontare in casa e dovremmo giocare molto bene contro un avversario molto forte che gioca bene a calcio, ma dovremmo appunto ottenere un buon risultato. Buongiorno mister, all'esordio a Bologna non avete fatto una gran bella figura, ma io non sono d'accordo quando si dice che l'Udinese è stata negativa. Primo, che avete affrontato una squadra più forte. secondo, perché ancora non sono stati inseriti i nuovi giocatori, mancavano tutti, e dei vecchi mancavano Sammergis, Wallace e Pereira. Tenendo conto di tutto ciò, non è stata una giornata negativa, ma è stata insomma una buona partenza. Un punto molto importante contro la squadra che gioca la Champions League in trasferta che si sta preparando appunto per la Champions League. Sicuramente non è un cattivo inizio. Nel calcio ci sono diversi punti di vista, è sempre così. Ogni squadra di successo ha sempre la seguente caratteristica, cercare sempre la vittoria fin dall'inizio e lavorare bene insieme. Penso qualcosa che abbiamo mostrato bene in quel di Bologna. Per 90 minuti noi abbiamo cercato di fornire una buona protezione, abbiamo lottato, non abbiamo mai mollato. È vero, sono d'accordo, che a livello di calcio giocato, di qualità, non abbiamo mostrato quello che abbiamo in serbo. Sicuramente dobbiamo fare molti passi in avanti quando abbiamo la palla, ma sicuramente la base è buona perché abbiamo una spirito di squadra, abbiamo una buona impostazione di base. I miei ragazzi credo proprio che l'abbiano mostrato a Bologna. e sono molto contento di ciò. Sono soddisfatto appunto di questa base. In tedesco abbiamo modo di dire che secondo il quale non si costruisce una casa in un giorno, ma bensì la costruzione ha bisogno di tempo, è un processo, non abbiamo bisogno appunto di tempo. Molti giocatori sono appena arrivati, dobbiamo conoscerci, dobbiamo fare gruppo, dobbiamo lavorare intensamente, sui dettagli anche. In precedenza avevo detto che ogni partita all'inizio ci dà dei feedback, il feedback è chiaro, da Bologna, gioco di squadra, spirito di squadra buono, ma a livello di qualità e di qualità di calcio dobbiamo migliorare per appunto affrontare la concorrenza in Serie A. In generale affronteremo molte squadre che hanno la qualità del Bologna, anche il caso di domani contro la Lazio. Una squadra con grandi individualità, ha iniziato molto bene la prima giornata contro la Venezia in casa e sicuramente domani arriveranno qui per portare i tre punti a casa, ma noi faremo tutto ciò con il nostro potere per tenerci stretti questi tre punti. Messaggero Veneto, seconda fila. Buongiorno mister, lei giustamente ha parlato di tempo, è un fattore che a mio parere riguarda anche lei, per la conoscenza del Campeonato Italiano, del calcio, della Serie A, si dice che il Campeonato Italiano non aspetta nessuno, allora io ho guardato attentamente la partita, come tutti, e ho avuto un'impressione tra le tante che a Rudinese mancasse il terzo centrocampista. Cioè la grande rivoluzione di quest'anno è via Wallace, si gioca due e mezzo, però il giocatore che mancava di più fatalmente era il centrale. E questa è una riflessione che ho fatto, volevo un suo parere a riguardo, se anche lei se ne ha accorto durante la partita, e chiaramente la possibilità di cambiare modulo, di cambiare giocatori in corsa, implica anche una lettura della partita, nella quale a mio parere lei ha fatto dei carri tardivi. Non so se l'ha fatti, e qui la mia domanda, non è una critica chiaramente, è un confronto. Insomma. No, 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 è un confronto. A me è un'opinione, non conta nulla, è la mia opinione. Una critica, ma no. No, vabbè, insomma. Lo sapere perché? Se le ha fatti in maniera strategica, perché voleva avere delle valutazioni approfondite sui giocatori in campo, oppure un altro motivo. Grazie. Molte grazie prima di tutto per il suo feedback. Questo è assolutamente un punto di vista. Avrei potuto fare i cambi prima. Non vi è una risposta chiara. Per me è una nuova Lega. La conoscevo già, ma sicuramente sono veramente sul fronte, gioco in prima linea. Abbiamo molti nuovi giocatori. Abbiamo cambiato molti dettagli rispetto all'ultima stagione. Abbiamo mostrato ottime cose nella preparazione, ma a Bologna non siamo riusciti a mostrare tutto quello che abbiamo preparato, soprattutto quando abbiamo la palla. Non lo sappiamo, dobbiamo migliorare su questo. Non dipende dall'avere due o tre centrocampisti, ma dipende dal fatto che tutti i giocatori devono dare il proprio contributo, partendo dal portiere, che svolge un ruolo importante quando si ha la palla, fino ai giocatori che entrano. Ci vuole più intensità, più velocità quando si ha la palla, i centrocampisti, le ali, i difensori centrali, i giocatori che giocano sulla fascia, da destra a sinistra. Sicuramente tutti dobbiamo migliorare. Sicuramente non tutti erano 100% della forma a Bologna. Ne abbiamo anche parlato molto intensamente di questo e lo sappiamo molto bene che dobbiamo migliorare. Noi abbiamo bisogno di tempo, sia io che la squadra. Il tempo ha anche un fattore relativo, può essere due mesi o due anni. dipende dal progetto, da quello che si ha in mente, dalla propria visione. Noi dobbiamo procedere passo dopo passo, lo sappiamo, con molta energia, con impostazione, spirito di squadra, tutti elementi positivi, li abbiamo mostrati a Bologna. Buona base, come detto. Noi conosciamo bene come è andata l'ultima stagione, e non si può pretendere, fa finta di niente, dire che adesso va tutto bene. Domani riceveremo un ulteriore feedback. Nella giornata di domani cercheremo di giocare in maniera più attiva quando abbiamo la palla, quando andiamo alla ricerca della palla. Sicuramente nel secondo tempo a Bologna abbiamo difeso in maniera troppo bassa, troppo passiva. Bologna ha giocato bene, ma ha avuto anche molto spazio per giocare. E' qualcosa su cui dovremmo sicuramente lavorare. Non dipende, come detto, da un giocatore in più o in meno, ma bensì dal lavoro di tutta la squadra. Buongiorno, mister. In questo momento, Keenan Davis quanti minuti ha nelle gambe? Sicuramente non giocherà a posizione da 10. gioca meglio al centro dell'attacco o per quanto riguarda il cambio del sistema con due punte. Ne stiamo parlando con lui e sicuramente ci alleneremo con lui la prossima settimana. Durante la preparazione abbiamo iniziato con un'idea che volevamo portare a fine, a compimento e poi raffinarla, ma sicuramente abbiamo anche altre modalità di gioco. Non so quanti minuti potrebbe giocare, non è facile da dire. Sicuramente è progredito rispetto a un mese fa. La stagione è iniziata con infortunio. Le ultime settimane è serenato poco con la squadra. è iniziato a aumentare il carico l'intensità da due settimane e mezzo. Sicuramente adesso che si è aggregato alla squadra è un giocatore importante e io spero che adesso sia abbiano stato di forma per giocare durante la partita senza ricadute che migliori ogni settimana. In ogni caso è migliorato rispetto alla settimana scorsa. Buongiorno mister. Ricordo che quando eravamo a Bad Glein-Kirchheim lei aveva detto che per vedere la sua Udinese bisognava aspettare almeno dopo la sosta. Doveva avere i tempi per mettere mano effettivamente al gruppo nuovo. Secondo quello che sta vedendo il suo cronoprogramma è rispettato? Cioè vedremo l'Udinese di Runiaic dopo la sosta? Sì, sì. Dobbiamo lavorare su dettagli da partita in partita tireremo le nostre conclusioni e faremo ragionamenti in base a come abbiamo giocato. La pausa delle nazionali vuol dire avere tempo per lavorare sicuramente noi vogliamo portare ancora più energia nelle partite casalinghe anche grazie ai nostri tifosi indipendentemente da chi gioca contro di noi qui da noi. Chi gioca contro di noi qui a casa nostra deve venire qua diciamo con un certo mal di pancia quando si gioca in maniera molto aggressiva quando si gioca contro una squadra molto aggressiva è il nostro desiderio è la nostra impostazione di base. Noi non potremo sempre valutare potremo giocare allo stesso livello di calcio con tutte le squadre di Serie A ma comunque noi vogliamo dare tutti noi stessi. Domani dopo la seconda giornata del campionato avremo un secondo feedback e continueremo a lavorare le informazioni che ci vengono date dal campo che saranno utili per le prossime settimane per il lavoro con la squadra. Ma abbiamo ancora una partita appunto a casa prima della pausa delle nazionali e bisogna vedere appunto quale sarà il feedback. Mister, buongiorno. A Bologna ha partito con 11 giocatori che erano in rosa già l'anno passato. Quando potremo iniziare a vedere qualcuno dei nuovi dall'inizio? Già da domenica e se ci dici anche chi così facciamo un bel venerdì pomeriggio anche un sabato. Beh, forse già domani. Prossime domande. Intende i nuovi acquisti? Intende dei nuovi acquisti, giusto? Forse già domani. Qualcuno forse giocherà già domani dall'inizio. dopo da TV12 di nuovo. Prego. Buongiorno, Mister. Senza entrare magari nel merito di chi giocherà o meno, qualche indicazione su come si stanno ambientando Ekellen Campaker. Adesso stanno iniziando ad avere qualche giorno di lavoro con il gruppo. Quindi se ci può dare qualche indicazione sull'ambientamento. Sì, sono arrivati, sono giocatori molto giovani che non hanno una grande esperienza a livelli così alti. Dobbiamo integrarli ma hanno sicuramente di avere buone basi che le stanno mostrando in allenamento e sono contento della loro prestazione in allenamento. per quanto appunto hanno dimostrato fin dall'inizio. Hicker, sicuramente, Kellen Camp ha sicuramente più esperienza rispetto a Hicker, bravo. È sicuramente qualcosa che si vede anche durante l'allenamento. A mio avviso potrebbe già giocare dall'inizio ma abbiamo ancora un allenamento nella giornata di oggi e domani deciderò. Sicuramente ho fatto il positivo che sia disponibile. Mi è piaciuto che si sia un po' sbilanciato nel darci questa notizia che qualcuno di nuovo forse si potrebbe vedere già domani io però invece volevo chiederle a che punto sono Pizarro e Christensen non ovviamente in vista della Lazio ma per sapere più o meno quanto potrebbe volerci per rivederli in campo. Sì, signor. non sono così tanto qui da noi Pizarro è arrivato dal Cilo e non ha neanche fatto un minuto di preparazione non ha ancora giocato col gruppo è giovane bisogna aspettare adesso appena ha iniziato a allenarsi con la squadra ma dobbiamo anche gestire il sovraccarico e lo vedremo col tempo di quanto tempo avrà bisogno per adattarsi prima di tutto deve entrare nel ritmo deve allenarsi giornalmente con la squadra si deve adattare al ritmo della squadra e poi vedremo quale sarà la prossima fase è sempre così con giocatori che devono adattarsi a un livello molto elevato vi sono differenze e in particolar modo per quanto riguarda i giovani giocatori dipende dalla situazione non posso dare quindi una risposta estremamente precisa in generale abbiamo tutti bisogno di tempo per adattarci l'allenatore con la squadra come noi vogliamo giocare come abbiamo detto fin dall'inizio sicuramente non lo modificheremo ma adesso noi dobbiamo entrare in sintonia dobbiamo riuscire a mettere in pratica ciò che abbiamo in mente ciò che abbiamo anche allenato le ultime settimane durante la partita dobbiamo mostrarlo meglio rispetto alla partita contro il Bologna ma come hai detto è stato un punto molto importante per noi abbiamo avuto un po' di fortuna ma è così il calcio io sono ottimista sono positivo e non vedo l'ora di giocare domani perfetto grazie a tutti però alzate la mano perché calma calma al microfono arriva ho dimenticato christensen giusto si sta allenando con la squadra e se tutto va bene non ci sono intoppi lo vedremo in panchina contro il Como gazzettino prima fila aspetta aspetta il microfono Guido se no non c'è la traduzione è in particolare avete preso un portiere ha già il numero già tesserato c'è nel comunicato il numero appunto ho già detto ha il numero volevo solo sapere ma per questione di essere preciso se è tra i convocati se sarà il terzo portiere il secondo portiere se è già disponibile domani non voglio sapere se giocano o meno se è disponibile domani allora può sicuramente rispondere alla domanda se giocherà o meno ok è sicuramente il numero uno non è disponibile sì è disponibile ma non so se farà parte della squadra che sarà convocato per domani non posso ancora rispondere grazie 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 grazie